emergente sanitaria coronavirus buongiorno 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 scusate sempre vero il subo ma mo è una cosa importante avete capito che voglio riuscire che succede e siccome ieri sera ma che c'è vita animale adesso no 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 forse ho spostato l'agenda l'agenda sembra niente volevo dire dottor siccome ieri sera a marusca mia moglie è stata buona si è avuto era proprio artiglia avete chiamato come avete chiamato il 118 no no e chiamati i pompieri chiamati i pompieri casa barbrettono dottor e poi sono venuti e si hanno caricato e l'hanno ricoprata lì a dell'oro ha capito che voglio riuscire i pompieri si si vanno i pompieri il fuoco quelli con le bombe con l'acqua stutano capito che voglio rire sì ho capito ma cioè i pompieri si chiamano se si sta incendiando una casa se uno rimane chiuso dentro se si sta incendiando una casa e chiami se si sta picciando il cristiano o no scusa a casa serve lo cristiano da me che fai vabbè va bene ma perché stava incendiando tua moglie no non si stava incendiando sì ehi c'è me sulla tavola c'è me su un termometro tutti i diti lì e due minuti ci aveva tenuto a dove era c'era un termometro era fatto accennare 41 che aveva forse aveva forze da 1700 28 una cosa terribile dopo e poi chiamati i pompieri sono venuti si va a ruccaricata dove? a mia madre mi ha fatto stare fuori mi ha fatto stare fuori dice signor coloria lei ci aspetti pure e ho detto si aspetta ad andare a porta e forse va forse? l'ha ristutata e poi ha detto che stasera ce la portiamo noi ma si va a riportare l'anno ripoverata ma i pompieri sono venuti con l'ambulanza quella dei pompieri? l'ambulanza dei pompieri cioè come hanno fatto a portarla i pompieri come hanno fatto a trasportarla? sono venuti quello che è mio quello che è mio che portava loro con la cisterna con l'acqua i pompieri forse avete capito che sono i pompieri eh ho capito e la signora come l'hanno portata? a mia moglie lei non c'è accattata la cisterna l'ho caricata l'ho portata ah e ora mi hanno chiamato se mi facete spiegare così pur che non consiglio è la prima volta che sento un ricovero in un comando dei pompieri dei vigili del fuoco non so se mi avete capito cioè io ho capito io ho capito e che poi posso se mi hanno detto che ricovera da Napoli c'è sull'estanza è come una specie di un break and break che ne esagio io i pompieri l'hanno soltanto estintori hanno scale hanno martelli hanno scappato cioè estintori capito? forse con l'estintore l'ho curata con l'estinta io che ne esagio non mi esagio rire mi cura l'ho fatto un gesigno l'ho chiamato ha detto signor Loria ha detto potete venire a papillare che l'hanno studiata ha detto non vi preoccupate correnente di preoccupando ha detto c'è una luce un po' che è andato non si mischia un po' che è andato il fuoco di Sant'Antonio no non si mischia ma voi non avevate non avevate notato dei segni sulla pelle? no io la guardo qui su Pintone forse a Ville che notavano ha detto che è un po' viene forse un dottore la bomba chi ne esagio ha detto venite va a pigliate venite va a pigliate ha detto che è tutta a posta l'uomo che è andato ma voglio sapere come c'è scrivere pare da poter giustificazione adesso è chiaro da adesso ogni volta bisogna essere di casa bisogna essere ancora più precisi quindi se lo avete il foglio si ottengo il foglio il formato del foglio è rettangolare il foglio no dicevo il formato io lo so però lo dovete riempire voi allora vedete dove c'è da da mio sottoscritto io sottoscritto signor lo so come chiamo ancora raggiungo io stiamo sbaporando queste quarantenne cosa che una quarantennata ti fa sbaporare però ancora lo so come chiamo io Rocco l'oree chi si usa capito per motivi di salute della mia di salute di salute di mia no di salute di mia moglie c'è della mia consorte no so questa moglie così è capace che mi fermano e fanno ancora un murtone un murtone uguale a grande murta capito che voglio rire dottor pronto sì pronto sì da da da